Informare e coinvolgere il Consiglio Provinciale nelle decisioni prese per affrontare la pandemia. E questa è la richiesta al centro della seduta straordinaria dell'Assemblea elettiva promossa da tutti i gruppi di opposizione e motivata dal fatto che la Giunta non aveva preventivamente informato il plenum del nuovo lockdown. Concretamente, come ha spiegato il presidente Josef Nogler, i proponenti richiedevano l'istituzionalizzazione di un incontro settimanale tra capigruppo e presidente della provincia sulla situazione relativa al coronavirus. Un'ulteriore consultazione prima di ogni decisione importante, anche per proporre eventuali modifiche, nonché un'informativa della Giunta sulla pandemia all'inizio di ogni sessione consigliare. Secondo la Cityroller Freiheit, si trattava di riconoscere la funzione di consiglieri e consigliere che non possono limitarsi a guardare cosa fa la Giunta, ma devono assumersi la responsabilità di controllare. Per il Team K, ci si trovava davanti ad un disastro organizzativo che in altri paesi avrebbe già portato alle dimissioni dei responsabili. Le dimissioni sarebbero l'unico atto coerente anche per Alto Adige nel cuore Fratelli d'Italia. Unico gruppo è stato rivendicato a votare in primavera contro la Via Alto Desina. Questa, secondo il Gruppo Verde, si è rivelata un boomerang, come dimostravano le proteste nella piazza antistante del Consiglio, espressione della delusione per provvedimenti incomprensibili. Si trattava di un grido disperato, secondo Enzian, che ha ritenuto che coinvolgere il Consiglio avrebbe permesso di valutare meglio pro e contro di ogni decisione. Per i Frei Heidrichen erano mancate strategie anticrisi e aiuti concreti. Il Partito Democratico, Liste Civiche, ha parlato di fallimento totale della Via Alto Desina e come il Movimento 5 Stelle, ha chiesto una riflessione sulla sanità non efficiente già da prima della pandemia. Le opposizioni hanno anche segnalato le divisioni interne alla Giunta. Molti esponenti della SVP hanno difeso la linea dell'esecutivo, impegnato ad affrontare una crisi senza precedenti, cercando di salvare il sistema sanitario e quello economico. All'opposizione è stato rinfacciato di voler sfruttare la situazione per trarne vantaggi politici. Analoga la posizione della Lega Salvini-Alto Adige-Sutirol, che ha inoltre imputato molte colpe allo Stato, da cui non sono arrivati sufficienti aiuti, mentre la provincia è sempre intervenuta con anticipi e sostegni. Anche Alto Adige Autonomia ha ritenuto che molte critiche andassero indirizzate al Governo nazionale. La Giunta ha evidenziato la difficoltà di adeguare continuamente le decisioni prese all'andamento della pandemia. I 10.000 test giornalieri effettuati attualmente, le vaccinazioni pari a tre volte la media italiana. Ha rivendicato di aver tenuto aperto, quando possibile, per garantire la scuola e l'economia. È stata questa la via sud tirolese, ha evidenziato il Presidente della provincia Compatcher, sottolineando che la collaborazione dell'opposizione avrebbe aiutato a comunicare meglio alla cittadinanza le decisioni, riducendo l'insicurezza. La mozione è stata alla fine sottoscritta da tutti i gruppi consigliari, compresi quelli della maggioranza, e approvata all'unanimità.